Mia amata moto, devi darmi la forza di fare un salto bellissimo, siamo pronti ad avere questa esperienza io e te, sei pronta? Andiamo! Spero che la moto ti butti giù, che ti faccia capire che la devi smettere, hai capito? Ecco come finiscono i tuoi istanti, visto? Con la faccia intera, lascia stare la mia moto! Te la spacco! Lascia stare la mia moto, ti ho detto che è molto più bella della tua, vattene! Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! Ehi sono Steph, e che si chiama GTA V! Ebbene sì, oggi siamo su GTA e io speravo che questo giorno sinceramente non sarebbe mai arrivato, perché sì, Steph ha deciso, e solo lui, di insegnarmi a fare gli stunt. Non so come posso insegnarmi una cosa che lui prima di tutto non sa fare, però ci proviamo, al massimo vi farò quattro risate su di te. Leggi qua? Cosa? Titolo Master Miglior Stuntman di sempre, prima di tutto. No, non ci scrive. Per far chiarire subito le cose tramite te. Quella è la scaletta delle cose che dobbiamo fare ogni giorno, non è, non ci è scritto. Vabbè, vabbè. Comunque, finalmente il giorno è arrivato, i consolini stavano aspettando questo video da almeno due settimane. Proprio non chiedevano altro, e quindi oggi faremo questo. Allora, voglio prima dirti tutto quello che oggi andremo a fare, ok? Prima di tutto ti insegnerò la mentalità dello stuntman. Dopodiché inizieremo a provare qualche rampa, e per finire ci sarà un test finale in delle mappe di parkour con la moto, che testeranno se sei diventato uno vero stuntman. Ok, sai, e di quelle giornate è come quando tipo vai a scuola e non vedi l'ora che finisca. Più o meno ho lo stesso tipo di sensazione, quindi penso che in questo momento i consolini stanno molto empatizzando con me, quindi sì, li sento proprio che mi danno conforto. Inizia a seguirmi, per favore, stami sempre dietro, non fare troppo rumore, e se hai qualche dubbio fai domande. Chi è che non deve fare rumore? Va bene, non mi minacciare. Allora muoviti. Perché sulla moto sono più bravo di te, ok? Non è vero, vai. Vieni con me. Allora. Dove te la sei tirata fuori quella moto? Eh, l'ho comprata, l'ho comprata, è bellina, ha 18.000 dollari. L'hai rubata o l'hai comprata? No, l'ho comprata, è mia, è mia. Poi c'è una pubblicità perché così la pagavo un po' meno, ho capito? Ah, vabbè, sì, perché sei poveraccio, va bene, vabbè, andiamo, 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 andiamo. I vestiti diciamo che non giustificano l'americhezza. Hai speso tutto in vestiti, ma non mi minacci. Allora, basta, basta, stiamo parlando dello stuntman. La prima cosa. Sto cercando di distrarti. Di sapere. Da sapere. Da sapere. Quando vuoi essere, non so parlare l'italiano, sono uno stuntman. Ovviamente. Da sapere quando vuoi essere uno stuntman e avere la mentalità dello stuntman. Perché tu tipo adesso stai camminando, stai vedendo una strada, un marciapiede, delle macchine. Ok. Tutte delle cose normali, giusto? Sì. Io invece vedo delle rampe. Ad esempio qua c'è una rampa, vedi? Ops. Ho vestito tutti. C'è la polizia che mi farà. Spera e scappa. Ho già fatto uno stunt migliore del tuo. Spera e scappa. Sono finito sotto però. Aia, davanti alla polizia te l'hanno ucciso? Lezione numero due. La prima ti è stata utile? No. Quindi qual è la due? La due è a uno stuntman, capita spesso, che la polizia gli ruba la moto. Quindi adesso ti faccio vedere come si recupera la propria moto quando la polizia te la sequestra. Perché sono invidiosi, vero? Esatto. No, è troppo bravo. Brava, brava, brava. Sennò qui in città tutti iniziano a fare gli stunt e non si fa più a controllare. Esatto, esatto, esatto. Hai capito esattamente tutti i problemi che hanno gli stuntman? Imparo molto in fretta. Quindi adesso recuperiamo la moto e poi riprendiamo la lezione di vedere le rampe ovunque nella città. Perché la visione è il primo passo per essere uno stuntman, capisci? Poi ci sono le abilità per prendere una rampa al meglio, come solo io so fare. Però all'inizio c'è la visione di vedere le rampe ovunque. Consolini, mandatemi. Nelle scale. Chiamate la polizia. Nell'aiuole. Fatelo arrestare così me lo portano via una volta per tutte, cioè io non ce la faccio più. Ecco la mia moto. Ok, scendi, 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 scendi. Scusate. Ti faccio vedere, tu vieni qua, ok, e dovresti. Vabbè, ok. Hai pagato? Sì, ho pagato. Perfetto. Perché volevo la mia moto. Prima regola, non si paga mai. Ce la stai prendendo? Sì. E la polizia? Sì. Vedere le rampe ovunque in questa città. Ti faccio un esempio, tu in questo momento vedi qualche rampa da qualche parte? No. Ok, vedi, guarda, seguimi, vieni, 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 vieni con me. Non la vedi neanche tu. Vieni con me, scendi qua sotto. Ok, ottima discesa, brava. Guarda, impara, guarda, impara. Adesso io so anche scavalcare i muri. Hai visto? Dai, arrivo, arrivo, arrivo. Guardami, sono bravissima e atterro pure in piedi a differenza tua, dai, ma sì. Cioè, non può essere che già l'allievo supera il maestro, però ci stai facendo una figuraccia qui. Sì, a te sembra, ma in realtà le mie abilità sono invisibili per una non esperta. Guarda, di nuovo! Guardami, vedi? Uh, faccio anche il giro della morte, mi hai visto? No, non ti ho visto. Ho fatto il giro della morte e sono atterrata in piedi. Vabbè, sono già più brava di te, è finita la lezione, quindi. No, assolutamente no. Dai, ti ho dimostrato che sia molto brava. Ad esempio, guarda, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Questa è una rampa e tu neanche tiri a corta, vedi? Tu puoi fare così e sbattersi in una bellissima rete. Benvenuta al test per diventare un vero stuntman. Sei pronta? Sì. Hai fatto un gestaccio. Ma è perché ti voglio bene. Vieni, 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 vieni. Allora, si inizia abbastanza semplice, devi soltanto essere precisa. Ok, brava. Sono già andata agli altri, ho preso troppo gas all'inizio, perché pensavo di dover correre un po' troppo. Ti consiglio di andare abbastanza cauta, perché come vedi non siamo in un bel posto. Ovviamente, meno morti fai, più sei un vero stuntman. Ora dobbiamo scendere qui sotto e andare sotto questi container. Si è caduta? Eh, se l'ho presa troppo di lato, stavo anche impennando. No, capita. Volevo strafare. Non è mia esperienza di uno stuntman e non capire esattamente dove andare. Ok, allora, adesso si fa un po' più difficile, te lo dico. Attenta. Ok, vieni sulla gru, sulla gru, sulla gru. Bravissima. Vai. Ora diventa un po' complicato sbattifisso a sinistra e destra, fa un po' male. Qua ci si fa qualche livido di solito. Te l'ho detto. Ma che senso ha fare? Non lo so. E poi questo è dove abbiamo fatto il nascondino e la gru dove abbiamo fatto il nascondino. Mi ci ha portato il mio maestro e io sono venuto insieme a lui e basta. Però non so che senso ha. Come ne esco io da qui, scusami? Cosa? Ecco qua, non riuscivo a uscirne, eccomi. Poi, hopla. Hopla. Hopla, hopla. Non cadere, ma dai. Perché lì voglio provare a fare fighi tutti di fila. Sì. Invece puoi iniziare la moto ad andarmi storta e non ce la faccio. E sei già due morti rispetto al tuo maestro che è zero, non vorrei dire. Ma sentito, ma che maestro? Ma si inizia a notare la differenza. Adesso dobbiamo andare di qui. Vieni, 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 vieni. Devi un po' accelerare. È un po' difficile, non te l'ho spiegato. No! C'è la cosa di precisione. No, aspetta, ma sei pazzo? Questo non lo farò mai. Ce la faccio. Ok. Sì. Beh, non lo so fare di precisione. Mi puoi ascoltare al centro. Dritta, senza tentennare. E ce la fai. Ok. Vai. Vado. Vedi che non funziona! Ti ho detto dritta! Allora, io... Eri così... Mi vanno bene le cose di stunt, ma non le cose così di precisione, perché... Allora, andiamo piano piano. Tutto fa parte dell'istant. Piano piano, 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 piano. Quando sei dritta vai secca. Piano piano, 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 ma dai! Ero drittissima, però, non è giusto! Mi stai facendo arrabbiare. Ho imbrogliato e glielo ho fatto io. Ci tengo a precisare. Vai avanti, dai, forza, forza, forza! Ok, e qua... Eh sì, eh sì, qua ti ci voglio proprio vedere, mia cara. Brava! Così? Bravissima, bravissima. Bravissima. Allora, non devo fare... Ma è da pat... Oh mio Dio! Che è sta cosa? Ok. Perché lo stiamo facendo? Sì, è tutto nella norma, è tutto nella norma, nel nostro lavoro. Ok, va bene. Che figo! Ok. Dove sei andata esattamente, Fere? Sono davanti a te. Ah, hai laggato e ti ho visto cadere. Ah, no, 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 non sono caduta. Ecco, sono caduto io. Bisogna scendere? Eh, sì, sì. Ok, l'ho fatto... Ah, l'hai fatto tutto di filo e ti stavo... Oh mio Dio! Dove vado? No, eh, non ce l'ho fatta. Ok, bisogna fare un bel salto ora, eh. E adesso... Dobbiamo andare da un palazzo all'altro adesso. Oh, ma mi devo lanciare da qui? Eh... Sì. Sì, provo, provo. Vai. Impenna bene. Ok. Vai, 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 cavolo! Per pochissimo! Tipo così. Opla! Ora non mi devo ammazzare. Ma come sono morta? Cioè, come è possibile? Perché devi atterrare nel modo giusto. No, ho impennato e sono morta. Ah, ok. Ancora prima di saltare. Ok. Ma non so cosa è successo. Sì, 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 sì. Mi sono un po' incastrato, ma ci sono. Un po' di retromarcine. Ho saltato malissimo. È impossibile. Ce la devi fare. No, dai, basta. Non ne posso più. Fede, siamo a metà mappa. Appunto, basta. Cioè, mi basta così. Abbiamo capito che piacciono solo a te queste cose. E possiamo finirla. Bravissimo. No, non ci arrivo. Vedi? Allora. Basta. Mi buco giù. Ascolta l'insegnamento. Per una volta ascolta il tuo insegnante. Mi sta venendo nervosa. Togli tutti i pensieri dalla testa. No, tolgo la tua testa direttamente. Ascoltami. Dimmi. Ok. Prendi la rampa da sinistra impennando e tieni l'impennata. Quando stai per arrivare la togli un po'. Ce la faccio, ce la faccio. Bam. Fatto. Bravi. Hai visto? Wow. Aspetta, non ero pronta. Aspetta, aspetta. Prendo un po' di rincorsa. Ma cosa sono queste cose? Basta impennare. Basta impennare. Sì, ma non sono dei distanti. È per farti capire che tu puoi impennare su tutti questi oggetti. Scusi, signore, l'ho messo. L'abbiamo finito, eh. Eccoci nella seconda parte del test. Ma come seconda parte? Non è finito. No, no, Fede, sono due parti. Mamma mia, vado, ciao! No, Fede, devo dire una cosa. Dimmi, dimmi, dimmi. Consolini, 3000 likes e faccio fare a Fede Niki il test hardcore. Quindi con delle mappe dove bisogna salire sopra dei fili stretti stretti e fare salti sulla spazzatura per volare tantissimo, eccetera, eccetera. Quindi ne vale la pena. Ho provato a ucciderti e non ce l'ho presa. Ma non mi hai fatto molto male. Come si fa sto pezzo, scusami? Aia, aia. Non ho idea. Ci siamo schiantati uno sull'altro. Aspetta, più rincorsa. Ah, certo. Allora, guardami. Ok? Ok. Tu fai così, 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 e poi devi salire sul tubo. No. Impossible. No. Non è vero che lo devo fare. Vedete, queste sono le cose che metterò nel test ufficiale. Ok, ok. Che è un po' troppo difficile. Dai, ce la stavo facendo. Grande, Fede. Sì. Sì. Ti ho fatto da stunt, però, non mi permessi. Perfetto. Aspetta. Vedi, questa è la collaborazione tra stunt. Abbiamo citato per la seconda volta, lì ho fatto io. Andiamo piano piano. Se cadi, mi battisco. Allora, la cosa che a me non piace è che devi fare le cose piano piano. Io sono solo per la velocità. Cioè, non riesco a... Eh, ma lo stuntman deve essere anche preciso. Dimmi che non sei caduta, ti prego. No, no, no. Ok. Prendo sto accidenti di checkpoint e vado dritta. Meno male, dai, è finito. Mamma mia. Fede, adesso dimentica tutto quello che è successo. Perché ci saranno cose più terribili. Può essere. Allora, ti do una spintina. Vai. Non levati. Vediamo qua. Vai, 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 vai. Oh, mio Dio. Dobbiamo prendere la rampa dietro di noi adesso. Rampona. Rampona bellissima. Vado io, vado io, vado io, vado io, vado io. Uh. Uh, sono andato troppo. Un po' lenta. Perché devi sbattere sui container. Lento, ok, ok, ok. No, vabbè, ma che cavolo sono queste cose? Cioè, ta, ta. No, non ce la faccio. Basta, quando finiamo questa lezione? Bellissimo. Bellissimo questo. Allora, l'hai capito? No. Te lo spiega il maestro. Allora, fai F, per favore. Che noia. Vai, piano piano. In pennina. Ok. Vai. Ok, fatto. Brava, grazie. Grazie. No. Per una volta sei stato utile. Cosa c'è sotto? Un tubo. No, dai, perché? E poi rampa. Mi mettete. E poi rampa. Sempre. Vado sulla rampa. Cosa devo fare poi? Uh. Dai, Steph, dai, Steph. Non ce l'ho fatta. Vedi che non so ancora volare. Non riesco neanche a salire nel tubo. Svere. Dimmi. Dobbiamo salire su un ponte. Vado. No, allora. Sto sbagliando. Seguimi a me. Seguimi a me a stessa velocità. Quindi velocino, ma non troppo. Ok. Impennatina. E l'ho mancato. Ah, no, però me l'ha dato. Me l'ha dato. Ok, ok. No, io l'ho preso anche, ma c'è un tubo stranì. No, vabbè. Lì è dove noi dobbiamo metterci. Basta. Esatto. Ti odio. Perché mi fai fare ste cose? Allora. Vai. Ci sono. Vediamo che stai combinando. Dimmi che ti riesci a venirci anche tu. Ma no, no. Vai per i fatti tuoi. No, Ferre, vieni. Vieni con me. Dai che ce la fai. No, non ce la faccio. Aiuto. Aiuto. È difficilissimo. Mi stai chiedendo troppo. Ferre, lo so che stai impazzendo perché è troppo difficile, è troppo lungo. Ma dimmi che non è stra epico. No. 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 Siamo qua da 21 minuti. Abbiamo gusti un po' diversi. Dai, è bellissimo. Cioè, come ho fatto ad accapotarmi secondo te nel ponte? Ferre, non lo so, non lo so. Cioè, guarda dove mi ha fatto... Perché non hai sufficiente... Che cosa? Mi ha fatto riapparire sul bordo del ponte. Vabbè, vabbè. Ok, credo che abbiamo anche così finito. Devi essere più convinta, capisci? Devi... No, io sono convinta solo di non volerle fare mai più. Di quello sono molto convinta, ok? Non mi stupisce. Vediamo se riesco anche a risalirci. Uh! Mi stai guardando? No, ti ho appena visto volare. Esatto. Quindi no, ce la dovrei fare. Ok, vai fare. Perché c'è questa salita così ripida in una maniera troppo esagerata? Perché siamo su un ponte. Mamma mia, guarda se mi prendevi accidenti a te. Sì, ma poi non ho capito dove si finisce secondo te. Bisogna poi cadere e c'è la fine. Ah, quindi andare abbastanza veloci, ok. No, no, neanche troppo immagino. Basta impennare un po', esatto. Finito! L'ho superato! Ok, meno male che non sono morto. Ok. Dai Fede che c'è... Si è caduta in acqua? No. Non ero io, era... Ho visto un polire... Era un piccione. Ah sì? Che è caduto, sì. Allora, guardiamo che ha testo in alto. La vedete? È un puntino. Bravissima! Adesso tenta a non morire. Solo tenta a non morire. Finalmente, finalmente, finalmente qualche divinità mi ha aiutato. Hai completato il primo test da Stuntman. Basta adesso, basta. Poi c'è quello difficile. Questo era quello semplice. Ma questo è il primo e l'ultimo, guarda. No. Sì, non mi intero. È un bellissimo lavoro. Allora, mi sa che adesso vado in copisteria, stampo una gigantografia mia. Ok. La metto qua. Tu la prossima volta giochi da solo. Magari i consulini ci cascano con il mio cartone. E chi la muove la moto? Il cartone con le cose di... Con le mani di carta. Non credo, non credo. Comunque, dai, direi che ci possiamo fermare così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. E fateci sapere se ne volete, appunto, un altro con le cose ancora più estreme. No, non li volete. Secondo me i consulini lo vogliono. Secondo me no. E quindi vedremo. Ferre cerca di fare propaganda. Ovviamente, devo difendere la mia posizione. Mi sembra logico. Assolutamente. Quindi ci fermiamo così. Tanti like sui, tanti commenti. Sondaggino. E ci vediamo domani. Ferre che ci succede così se ci lasciateci un bel like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi di altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.